Ok, un veloce video su come utilizzare una radisca appena comprato con sistema operativo Apple. Ora, la prima cosa da fare, andiamo sul nostro Launchpad Dashboard, come vogliamo chiamarlo, cerchiamo Utilità Disco, Utility Disco, e da qui selezioniamo nell'opzione Vista, Mostra tutti i dispositivi. Questo ci permetterà di formattare il disco alla sua radice. Ora, il disco è distribuito di default con un file system NTFS, che non è scrivibile da Mac, quindi questo disco in questo momento possiamo leggerlo, non c'è scritto dentro niente perché è nuovo, ma non possiamo scriverci nulla. Ora, per scriverne possiamo scegliere due opzioni. Abbiamo o il file system Journaled Mac OS, che è leggibile e scrivibile solo da Mac, oppure possiamo utilizzare XFAT. XFAT è leggibile e scrivibile anche dai PC Windows, però c'è un difetto di XFAT. XFAT è più lento rispetto a Journaled. Quindi se noi utilizziamo il nostro disco in un ambiente misto, con dove c'è anche chi usa Windows, allora sicuramente dovremmo scegliere XFAT. Se invece lavoriamo solo su computer Mac noi e sappiamo chiederemo il computer solo alle persone che usano Mac, possiamo scegliere Journaled e avremo un po' più di velocità. Nel mio caso è questo il caso perché qua cerco di evitare di usare Windows, e quindi legherò un nome che sarà sempre Seagate5T, in questo caso lo chiamerò. Ricordatevi che ho selezionato la radice del disco, cioè quello che è apparso dopo aver selezionato da vista tutti i dispositivi. E a questo punto... fare la sua bella operazione di formattazione. Vediamo che lui sta lampeggiando tranquillamente, allegramente. Eccoci fine. Ora possiamo aprire il nostro disco e creare un nuovo file. Fare una cartella. Ciao. Ora una nota così a pieghe pagina. Fate attenzione, il 5TB è il formato in questo momento col qualità prezzo, cioè diciamo prezzo terabyte più conveniente. Però sappiate che se dovesse cadervi un disco del genere da 5TB, per il fatto che sono molto più miniaturizzati e hanno delle tecnologie più nuove, il recupero dati su queste macchine, su questi dischi più grandi, è molto più costoso e a volte impossibile. Mentre ad esempio se fate cadere un 2TB, un vecchio disco da 2TB, il recupero dati può costarvi relativamente poco sui 300€. In questo caso magari invece si parla di 800-1000. Quindi insomma, se siete persone un po' distratte come me, magari non prendete un 5TB se sapete di portarlo in giro in particolare. Ma nel caso se dovete lavorare in giro, la cosa migliore forse è un SSD. E con questo penso sia tutto. Ciao!